ciao ragazzi bentornati su hard rock crypto in questo video vedremo quali sono le migliori opportunità per quanto riguarda gli airdrop e i farming da fare in questo momento come utilizzare meglio la propria liquidità tutto questo tra pochissimo prima andare avanti ragazzi vi chiedo un fantastico like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati qua sotto in descrizione troverete tutti i riferimenti social nonché i timestamp per andare alla parte di video che vi interessa di più come sempre tutto quello che dirò in questo video non è mai un consiglio finanziario conci qua ragazzi iniziamo con jupiter jupiter propone il secondo voto per quanto riguarda il launchpad naturalmente dovete avere i jupiter in staking sulla piattaforma il secondo voto avverrà il 17 di aprile ricorda tutti che è fondamentale votare se no non si avranno i token del launchpad il primo launchpad è stato zeus che è andato molto bene prossimo progetto ragazzi mantra progetto real world asset che è andato molto bene recentemente che praticamente c'è una campagna gax questa qui che vi invito a fare assolutamente molto semplice ragazzi dovete semplicemente fare delle brevissime task dei like eccetera cose di questo tipo dopodiché c'è un quiz estremamente banale vi avrete loat che vi permetterà di partecipare alle altre quest per ottenere 50 milioni di token mantra in questo momento è quasi un dollaro penso che lo supererà estremamente in high per questo progetto quindi potenzialmente 50 milioni di dollari da dividersi tra chi parteciperà a questa campagna gax e tra l'altro i token questi nft stanno andando ce ne sono 88 mila in questo momento 25 mila partecipanti ne sono 88 mila qualcosa del genere di nft per poter fare questa cosa chi porterà a terminale quest si dividerà il monte premi da 50 milioni di token che non è male assolutamente ragazzi continua la battaglia del restaking dei protocolli di restaking di ethereum parliamo di swell che ha fatto la campagna voyage che permetteva appunto di ottenere delle perle e punti di eigen layer tutto questo sta finendo non si può più depositare sul volt iniziale per mintare anche i punti di eigen layer e dal 17 di aprile si potranno prelevare questi sweat dalla volt senza incorrere in nessuna penalità si potrà poi optare per versarli in quello che è uscito in questo momento ovvero swell è diventato un layer 2 un layer 2 che offre opportunità incredibili questo layer 2 supporterà i vari protocolli di restaking qua ti dice le varie possibilità che hai ovviamente la possibilità migliore quella di cui vi parlo oggi è quella di depositare in anticipo su questo layer 2 di swell per ottenere maggiori incentivi ovviamente dovete fare voi le vostre ricerche se fa per voi perché qua incorrete in rischi di smart contract e quant'altro quindi cosa potete fare potrete depositare il rs w et sul swell layer 2 e otterrete un milione di eigen layer points in più in questo periodo che dura un po meno di un mese avrete degli airdrop bonus da parte di swell e da altri protocolli che costruiscono su questo progetto che sono questi qua ion protocol ambient finance e brama file quindi tantissimi airdrop facendo un versamento quindi se andate sul sito di swell vedete che si può predepositare per il layer 2 e questa cosa dura 26 giorni avrete appunto 100 milioni di avrete appunto un milione di eigen layer points che non è male assolutamente potete versare tutti questi asset ethereum sweat i vari ethereum del restaking ma anche alt layer che collabora questi sono i vantaggi che avrete che sono notevoli bonus swell airdrop dai progetti dell'ecosistema che sono tutti questi qua e un milione di punti per quattro settimane inoltre continuerebbe a farmare i vlr t ovvero i punti legati al protocollo che avete versato qua che possono essere quelli di renzo di stone tutta questa questi vari ethereum del restaking iter file e quant'altro ragazzi questa le due supportato da tantissime chain vedete da eigen layer naturalmente iter file idos take stone pendle renzo ma anche con l'infrastruttura di polygon la data availability offerta da eigen layer alt layer chain link e redstone che è un nuovo oracolo a me sembra un'ottima opportunità e lo sto già facendo quindi ragazzi per quanto mi riguarda metterò in staking quando il gas costa poco anche gli alt layer che mi erano stati airdroppati all'epoca e dal 17 aprile appunto quando mi sbloccano senza penali gli sweat dal volto originale li metterò qui sul layer 2 per farmare questi punti qua parso ragazzi è possibile andare a vedere i punti parso del progetto legato al real estate su solana solano ultimamente non sta andando benissimo ma è comunque possibile andare a verificare la propria allocation di token parcel arriverà veramente a momenti a giorni massimo settimana prossima l'air drop della season 1 di potete andare su app parso il punto co a verificare la vostra allocation e questo protocollo secondo me andrà molto bene sta facendo anche una partnership con skybridge del buon anthony scaramucci personaggio che vediamo sempre anche su cnbc eccetera quindi molto bullish su parcel per quanto riguarda il real estate su solano approfitto ragazzi per parlarvi di una promo legata al gaming farcana gioco fantastico di cui vi abbiamo parlato già tempo fa uscito su cd fai vi faccio vedere alcune scene dal gameplay di farcana vedete assolutamente fantastico e questo gioco che continua a fare dei progressi incredibili grandissima community grandissimo seguito vi invito a provarlo assolutamente andate a seguirli ragazzi su x farcana official 220 mila follower seguiti dai dai migliori qua vediamo da magic eden e collaborano con gli amici di farcana con cronoforge altro gioco molto atteso ragazzi che sta arrivando potete vincere 6 milioni di token di questo progetto quindi andate su cronoforge naturalmente tutti questi link li metterò tutti in descrizione ragazzi per fare queste task venite qui e vi fate andate a mintare questo nft che potrete fare delle cose molto semplici e ottenere questo nft e partecipare alle task per ottenere il drift token in maniera assolutamente gratuita quindi un airdrop molto semplice da fare ragazzi vi voglio segnalare anche il file farming di etena su menthol menthol è un layer 2 che sta andando molto bene mi piace parecchio su menthol potete andare a farmare il token di etena mettendo in staking gli mnt che sono i mantol li mettete in staking su questa piattaforma metterò il link anche questo ovviamente qua sotto e venite qui e otterrete degli etena shards paga veramente molto bene ci sono 2,5 billion shards da guadagnare in 14 giorni ci sono solo 25 mila persone che stanno partecipando in questo momento personalmente etena come airdrop è stato molto remunerativo penso che questo andrà ancora meglio quindi fate un po voi quello che volete ragazzi fate le vostre ricerche decidete se fa per voi per fare il passaggio dei token mantol vi suggerisco di passare da bybit dove il prelievo è gratuito prima andare avanti ragazzi voglio parlarvi di stake layer il primo protocollo di restaking su bitcoin ragazzi i bitcoin che avete in defy quindi wbtc e simili possono essere ristecati ottenere dello yield supplementare grazie a stake layer c'è tra l'altro una presale in questo momento che è live la presale funziona in questo modo stanno raccogliendo in questo momento un milione centocinquanta mila dollari prima di passare allo step successivo dove verrà aumentato il prezzo del token qua vedete il prezzo che verrà aumentato fra sei giorni quattro ore eccetera la loro missione di rendere il più semplice possibile tramite un'app il restaking di bitcoin quindi la possibilità di aumentare lo yield su btc quindi depositate btc ottenete dello yield naturalmente tutto questo è fattibile su ethereum e su bsc tramite appunto il bitcoin ruappato wbtc e btcb questo è il funzionamento saranno presenti alle conference più importanti a dubai token 2049 a mainnet è attesa nel q4 di quest'anno il tg e quindi il token verrà rilasciato nel q2 quindi prossimamente ragazzi appena conclusa la presale ragazzi mi raccomando fate le vostre ricerche e valutate se questa opportunità fa per voi lascerò il link ovviamente in descrizione ragazzi etena ha avuto un successo clamoroso ha funzionato molto bene il farming di ena token che sta continuando andare avanti come abbiamo visto e ed è la valutazione di etena ragazzi era di 300 milioni di dollari per cui qua su elixir sono ancora più bullici ragazzi 800 milioni di dollari di valutazione c'è arthur ace tra gli altri più tutti questi vc per supportare questo progetto che cos'è elixir elixir sostanzialmente elixir fornisce liquidità a vari dex vari exchange quindi tu fai un dex hai bisogno di liquidità e ti appoggi a elixir che sostanzialmente ti crea un order book ti fa da market maker lo sto spiegando malissimo ma è un po questo che fa elixir nell'ecosistema di elixir ci sono già alcuni dei dex più importanti come di ydx vertex hyper liquid e c'è tutto un ecosistema di oltre 30 daps l'opportunità sta in questo airdrop garantito perché ci sono già i punti su elixir e sostanzialmente fornite liquidità in questo programma che si chiama potecari questo il programma ragazzi fornite liquidità e vi ho trovato il token di elixir a fine campagna lo potete fare su arbitrum e su sui e naturalmente anche su ethereum ma vi consiglio di farlo l'importo minimo è di 100 dollari quindi vi faccio vedere come funziona questa apotecari connect wallet andiamo su sui ragazzi ti fa collegare anche twitter e discord e vedete quando non scorna quindi andiamo a versare un po di liquidità facciamo questo supply to elixir dovete avere questo elx eth cioè l'ethereum di elixir fornendo almeno 100 dollari di liquidità lo farò con sui quindi metteremo usd c il questi fondi non saranno prelevabili fino ad agosto quando verrà lanciata la mainnet di elixir ci sono ancora un buon numero di mesi c'è ancora tempo per farmare questo airdrop che secondo me andrà molto molto bene se ci mettete una cifra interessante direi che sicuramente l'ideale è intorno ai 1000 dollari almeno per diciamo avere degli ottimi risultati ovviamente anche con 100 dollari per tutti questi mesi si potrà avere un buon risultato che chiaramente più soldi mettete meglio è dovete naturalmente studiare il progetto ci sono dei rischi come quelli di smart contract le solite cose dovete capire se fa per voi vedete che queste qui sono già cappate hanno già raggiunto il massimo io avrei voluto mettere qua in su usdc 2 milioni di dollari ma hanno già raggiunto il limite può essere che sicuramente verranno aumentati questi cap dovete seguirli su x quindi procederò su arbitrum su arbitrum c'è usdt usdc quindi non c'è in permanent loss praticamente però paga molto poco 4,5 per cento ma qua l'obiettivo è fornire almeno 100 dollari nella pool di prima per farmare il token e l'airdrop quindi vengo qua su supply abbiamo fornito questi 200 dollari circa andiamo su my position potete seguire quello che avete fatto sostanzialmente fornendo liquidità almeno 100 dollari si avranno queste pozioni queste elixir potion con varie attività che sono appunto fornire mintare elx eth quindi l'ethereum di elixir oppure fornire liquidità su come abbiamo visto su sui e arbitrum ma anche con attività social io ho messo questi soldi non me li vede ancora li potete prelevare in qualsiasi momento andate su withdraw avete la posizione e potete prelevare senza problemi ancora non me li vede per cui non ho questo mystic chest questo è quanto ragazzi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre noi ci rivediamo al prossimo video sempre qua su hard rock crit